L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per l'Abruzzo e il Molise di Teramo ha sviluppato un sistema informativo per la gestione dei laboratori veterinari attualmente in uso in 10 paesi africani. Si chiama SILAB ed è un progetto che la FAO stessa ha inteso sostenere a fianco dell'IZS caporale, che ha anche il compito di formare in loco gli operatori. È un applicativo che usiamo appunto tutt'oggi anche qui in istituto e che abbiamo esportato in Italia, lo utilizzano al momento anche l'Istituto della Sicilia e l'Istituto della Puglia e Basilicata. L'applicativo che significa? Un tipo di organizzazione? È un sistema informativo che segue le attività della gestione del campione dal suo arrivo all'accettazione fino alla produzione del rapporto di prova, raccogliendo nel frattempo tutta una serie di informazioni e tracciando tutto il percorso del campione in modo da poter soddisfare tutti gli altri bisogni informativi che girano intorno a questa attività diagnostica, che è un'attività scientifica prevalente per l'Istituto. In questo momento sono undici tra veterinari, tecnici di laboratorio ed informatici provenienti dal Botswana, Camerun, Costa d'Avorio, Senegal e Uganda, che si stanno formando all'Istituto Zooprofilattico di Teramo sul Silab For Africa. Colleghi che provengono da cinque paesi diversi, cinque paesi alcuni francofoni, altri anglofoni. Capisci bene che per una realtà come quella di Teramo, una città di 60.000 abitanti, con un istituto sicuramente proiettato verso l'internazionalizzazione, che si trovano allo stesso momento cinque paesi africani sui 51, penso che sia una nota di merito profondo per questo ente. È occasione, a mio avviso, da non perdere, sia per i dipendenti dell'Istituto, ma mi farebbe piacere che anche la cittadinanza tutta cogliesse questa opportunità. I delegati africani in questi giorni hanno anche visitato il laboratorio Relazione Uomo-Animale e Benessere Animale alla Torre di Cerrano di Pineto, oltre al Centro Ricerche per gli Ecosistemi Marini e Pesca di Termoli.